Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria. E da me e da un regalo graditissimo che mi fa quella gran persona che è Giovanni Cecini. Ne ho parlato più volte, Giovanni Cecini, storico di vaglia, ottimo divulgatore, grande, come si suol dire, persona, una persona a cui secondo me è assolutamente impossibile non voler bene. Uno storico, ripeto, uno storico abile, scrupoloso, dalla serietà e dalla chiarezza estreme, un bravo youtuber, iscrivetevi al suo canale perché meritano i suoi contenuti, meritano veramente tanto. E diciamo così, una persona che io ho l'indubbio e indiscutibile onore di poter chiamare un amico, un grande amico. Giovanni mi ha mandato questo libro, diciamo un regalo di Natale, Antifascismo e Resistenza nelle Marche 1919-1944. Un regalo di Natale arrivato un po' in ritardo per vari motivi, ma che, come si suol dire, ho iniziato immediatamente a sfruttare per i miei video, soprattutto per una cosa. In questa raccolta di testi, di testimonianze, articoli di giornale, capitoli di ricerche fatte da storici marchigiani, documenti degli archivi comunali, provinciali, regionali, documenti degli archivi dell'AMPI, documenti anche della Repubblica Sociale Italiana, e si parla, come si suol dire, della resistenza, dell'antifascismo e della resistenza nelle mie terre, nelle Marche. Le vicende del ventennio, come quello che accadde durante il ventennio agli antifascisti nelle Marche, e quello che accadde soprattutto dal 1940 al 1944. Focalizzandoci in questo video soprattutto su quanto accadde nell'estate del 1944. Piccola e doverosa precisazione. Qualche giorno fa il mio nome era stato tirato in ballo a proposito di una discussione sul Capo Matapan, insomma in un gruppo di discussione storica su Facebook, era stato fatto il mio nome dicendo a Metal Mike ha fatto un video a proposito di questo argomento, un video che trovo molto valido. E' un tizio e dice, oh, Spadoni, buono quello, è capace soltanto di insultare i valorosi soldati della Repubblica Sociale Italiana. Allora, non è mia intenzione addentrarmi nelle questioni sul valore, sul disvalore, sui ragazzi di Salò, non è mia intenzione così. Però è indiscutibile, e soltanto chi ha una profonda e irrecuperabile disonestà intellettuale, diciamo che è indiscutibile il fatto che le forze armate della Repubblica Sociale Italiana durante la guerra civile non brillarono propriamente per valore bellico. Stanno a menare tanto il torrone, oh, l'operazione Wintergewitter in Garfagnana. Sì, l'operazione Wintergewitter in Garfagnana fu un buon successo tattico italo-tedesco, ma i tedeschi si fidavano talmente tanto dei loro prodi alleati italiani da inserirli a sandwich tra i loro reparti in modo che la prima linea era occupata dai tedeschi, gli italiani in mezzo e i tedeschi dietro. Perché? Perché i tedeschi avevano paura che al primo sparo i soldati della Repubblica Sociale Italiana o fuggissero o disertassero. Perché ricordiamoci che i reparti del disgraziato esercito di Graziani avevano un tasso di diserzione che andava dal 15% se andava bene, al 60% se andava particolarmente male. Ma, 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 cari signori, in questo volume, in questa antologia di documenti che ringrazio ancora Giovanni Cecini per avermi passato, è presente una testimonianza del superno e superiore valore, del superno ed incrollabile coraggio dei militi, dei soldati, degli aderenti alla Repubblica Sociale Italiana. Signori, tenetevi forte! In questo volume è contenuto un brano di un lavoro dello storico Gianfranco Bertolo, un lavoro che era intitolato Pesaro contro il fascismo, pubblicato a Urbino nel 1972, le pagine vanno da 208 a 214. Signori, 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 tenetevi forte! Allora, come ben sapete, io sono originario del comune di Montefelcino, la famiglia di mia madre proviene dalla frazione di Fonte Corniale, paesino che era la base della brigata Garibaldi, dei reparti della brigata Garibaldi, intitolati a Bruno Lugli, caduto azionista, membro del Partito Nazione, antifascista caduto in Spagna. Allora, sentite un po'. Allora, notte tra il 7 e l'8 luglio, le truppe della quinta brigata Garibaldi-Pesaro si mettono in marcia verso sud per congiungersi con gli alleati. Alcune unità, quelle comandate dal comandante Basilio, passa da Santa Maria dell'Arzilla e ripiega verso la metà del mese in direzione al fronte su Senigallia. 20 luglio, un episodio di cui ho già parlato. La brigata Bruno Lugli viene attaccata a Fonte Corniale da ingenti forze tedesche appoggiate da mezzi corazzati ed è costretta a ritirarsi e a disperdersi temporaneamente per ricostituirsi poi alla vigilia dell'arrivo degli alleati. E lì fu tutto merito del capitano Frankellucci, un ufficiale dei bersaglieri in servizio permanente effettivo, divenuto comandante partigiano che seppe comandare molto bene la Bruno Lugli a Fonte Corniale. Fonte Corniale viene dato alle fiamme per appresaglia ed uno dei dirigenti del CLN provinciale, Armando Lugli, il fratello di Bruno, sfugge fortunasamente alla cattura da parte dei tedeschi. Allora, le azioni contro i tedeschi quindi riprendono per i partigiani sia pure a forze ridotte date il disarmo subito, al di là del fronte in collaborazione con le forze alleate e al di qua della linea dei combattimenti con le azioni di disturbo e guerriglia condotte dalle altre formazioni partigiane rimaste nella zona. Diciamo la zona tra Cantiano, Fossombrone, Pesaro, Senigalli, eccetera eccetera alcuni partigiani non raggiunsero gli alleati ma continuarono le loro azioni di guerriglia e di disturbo. Insomma, i partigiani fanno di tutto per rimanere sul posto, tentano di liberare città e paesi ma una volta constatatene l'impossibilità vanno al fianco degli alleati, avanzano con questi e partecipano alla liberazione della provincia. Cominciamo signori. Nei piani difensivi tedeschi Pesaro presentava particolare importanza strategica in un primo tempo secondo le risultanze alleate avevano previsto di fare della città un punto cardine nello schieramento difensivo della linea gotica impiegando la prima divisione di paracadutisti con postazioni difensive installate tra i molti e stretti vicoli del centro e nei punti cruciali della periferia. Solo verso il 25 agosto proprio alla vigilia quindi dell'attacco alleato il comando tedesco abbandona questo progetto a causa della scarsità delle forze disponibili sostituendolo con un più elastico sistema basato su una serie di unità mobili e nuclei sparsi di franchi tiratori. Difatti da queste parti vicino a casa mia erano piazzati tre nidi di mitragliatrice a tre chilometri circa di distanza l'uno dall'altro e alcune postazioni di mortai sparse e isolate che diciamo fecero un certo lavoro di rallentamento. Ma tenetevi forte signori perché indovinate un po' chi si dà a precipitosa fuga da Pesaro non appena si sparge la voce dell'avvicinarsi delle truppe anglo-americane insomma indovinate un po' chi fugge a gambe elevate tra il 6 e il 20 giugno c'è il si salvi chi può gli alleati arriveranno alle porte di Pesaro il 28 agosto cioè due mesi e mezzo dopo e oltretutto quando l'ordine di ripiegamento rimbalza da una caserma all'altra dei presidi e il panico si diffonde tra i militi e i dirigenti fascisti della Guardia Nazionale Repubblicana le avanguardie dell'esercito alleato si trovano ancora al di là degli appennini marchigiani a circa 150 km da Pesaro zona macerata più o meno nei pressi di Perugia e ancora lontani persino da Ascoli e Macerata per dire ma vale la pena di vedere come nei fatti avviene questa clamorosa fuga proprio attraverso i documenti di fonte fascista in base alle relazioni e alle dichiarazioni che il comandante provinciale della Guardia Nazionale Repubblicana rilascia al comando del campo di Bozzolo a Mantova dove vengono smistati i fascisti pesaresi scappati dalla loro città il colonnello della GNR Marino Fattori riceve il 9 giugno 44 l'ordine di raggiungere Pesaro da Forlì dove presta servizio per assumere il comando e dirigere quello che eufemisticamente viene definito dall'Ispettorato regionale dell'Emilia il ripiegamento di materiali e uomini la travolgente avanzata all'indietro questo ripiegamento era in corso già da giorni nella zona pesarese a Pesaro il colonnello Fattori giunge con mezzi di fortuna 5 giorni dopo l'11 quindi il 14 badando bene di evitare le vie di comunicazione interne minacciate dalle formazioni partigiane imbaldanzite dall'avanzata delle armate nemiche e dalle azioni aeree avversarie oltre che le comunicazioni erano congestionate dal traffico delle truppe tedesche in ripiegamento allora giunto a Pesaro il 13 e il 14 giugno Fattori cerca di mettere un po' di ordine a quanto sta avvenendo nella zona dice Fattori documento della Repubblica Sociale Italiana il rapporto del colonnello Fattori 9 giugno mi proveniva telefonicamente dal comando provinciale di Forlì l'ordine di raggiungere immediatamente Pesaro per assumere il comando provinciale il giorno 13 giugno raggiungevo il comando provinciale di Pesaro e mi preoccupavo di lenire il disagio spirituale e che, direi, aveva pervaso per preoccupazioni familiari ed altro la maggior parte degli appartenenti al comando provinciale di Pesaro ufficiali, sotto ufficiali e militi constatavo che questa situazione era stata determinata da voci molto allarmistiche provenienti dal sud recate da sbandati in ritirata che consigliavano, persino ai posti di blocco di abbandonare il servizio all'influenza di questi sbandati attribuisco alcune defezioni le altre defezioni, specialmente nei presidi dipendono da contatti con elementi militari e politici preoccupati dalla loro posizione e di quella della loro famiglia certi conti da regolare come ben sapeva il medico condotto del mio paese o come ben si accorse quel tizio di un paese vicino Fonte Corniale che fece l'infame per i tedeschi e si ritrovò con una furconata in pancia ma... quisquiglie, ok, va bene detta situazione era aggravata anche dagli ordini di sfollamento emanati dai comandi germanici locali che si preoccupavano, a loro giusto vedere di predisporre la difesa delle località prefisse sorgevano così le difficoltà di ripiegamento continua a dire fattori aggravate dal fatto che il comando nel momento cruciale si vedeva requisire da un comando tattico tedesco anche l'ultimo automezzo appena efficiente rimastogli per la serie chi se ne fotte del fedele alleato della RSI ma noi siamo rimasti fedeli all'alleato siamo rimasti fedeli all'alleanza ecco come ci consideravano portano via a quei disgraziati anche l'ultimo camion che gli era rimasto pur di fuggire ma vabbè 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 diciamo questo allora allora a onor del vero dai comandi germanici ho potuto ottenere del carburante che in parte scusate è che in parte fu preso dall'ispettorato regionale delle Marche che si preoccupò di andarlo a prelevare da un nostro autocarro rimasto immobilizzato tra Pesaro e Cattolica con il carburante ceduto e qualche concessione di mezzi ho potuto trasportare da Pesaro gli uomini e i materiali gli alleati sarebbero arrivati da lì a due mesi gli eroici eroi della Repubblica Sociale Italiana scappano di corsa mica scemi ok vabbè 16 giugno ha inizio l'inglorioso esodo di maggiori capitani tenenti e truppa fascista per un totale di oltre 500 uomini i quali abbandonano la provincia nelle mani tedesche tuttavia sono in molti a mancare all'appello finale una grossa parte se ne è già andata per conto proprio e fra questi i componenti della cosiddetta compagnia della morte la compagnia della morte pronti a morire per la patria e per il dove ci è sì 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 della cui sorte dice il fattori mi ero preoccupato e che avevano dato assicurazione di arruolarsi nella GNR e che invece non hanno tenuto fede alla parola data al loro federale insomma signori gli stessi rapporti della RSI parlano di forze armate allo sbando parlano di buoni a nulla e vigliacchi che si vaporizzano nell'iperuranio non appena si ode un distante peto emesso emesso da un soldato neozelandese o da un caporale polacco che aveva mangiato fagioli gli eroici eroi io parlo male degli eroi della Repubblica Sociale Italiana bene stupendo vabbè continuiamo va allora Fattori è costretto ad ammettere dopo una volta fatta la somma dei presenti e degli assenti che purtroppo si sono lamentate numerose defezioni di legionari gli ex carabinieri ufficiali sotto ufficiali e truppa hanno tranne singole eccezioni defezionato in massa ma questo si sapeva fin troppo bene i carabinieri avevano giurato fedeltà re i carabinieri avevano digerito molto male la deportazione di duemila carabinieri avvenuta a Roma per opera dell'infame Graziani i carabinieri avevano digerito ancora di meno il loro essere incorporati nella GNR vabbè 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 per i provenienti dalla milizia gli sbandamenti devono attribuirsi oltre che alle preoccupazioni di carattere familiari al comportamento menefreghista degli ex carabinieri con i quali da mesi avevano diviso il servizio cioè in pratica se i militi fascisti avevano disertato la colpa di chi è dei carabinieri che hanno fatto propaganda degli ex carabinieri che hanno fatto propaganda disfattista eccetera 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 il sospetto che gli stringesse paura vabbè 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 lasciamo stare con la milizia e gli ex carabinieri fuggono anche gli agenti ausiliari della polizia repubblicana e di suoi capi del questore Rossi dice sì lo stesso si sia recato in Urbino presso la sede della Banca d'Italia per prelevare fondi destinati all'anticipazione di tre mensilità agli agenti sono state pagate se è vero il prelevamento si chiede il colonnello Fattori ma 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 il personale ausiliario della polizia della questura di Pesaro fu reclutato tra i più torbidi elementi studenteschi e sovversivi locali che in definitiva nei momenti cruciali la quasi totalità del personale in un momento di assenza del capo della provincia del questore dato l'assalto alla cassa e prelevati automezzi e armi fuggì verso zona notoriamente in mano ai ribelli in pratica in pratica i poliziotti ausiliari della questura di Pesaro se la filarono correndo a raggiungere quelli della Bruno Lugli verso Fonte Corniale o verso Santa Maria dell'Arzilla ma loro erano fedeli all'alleato loro non tradivano io parlo male degli eroi della Repubblica Sociale Italiana ma va bene signori continuiamo da Pesaro partirono alla fine poco più di 500 uomini ma di questi solamente 216 arriveranno a destinazione gli altri si perdono lungo la strada che scusate scusate io avevo detto più di una volta sono stato accusato di essere un bieco antifascista una zecca rossa un comunista bugiardo che svilisce l'eroismo degli eroici eroi della Repubblica Sociale Italiana dicendo che i reparti della RSI avevano un tasso di diserzione altissimo cioè qui praticamente 500 uomini partono da Pesaro verso Forlì agli ordini del colonnello fattori e scusate ne arrivano a Forlì 216 cioè sono 250 dove cavolo sono finiti gli altri 284 cioè 284 eroici eroi della Repubblica Sociale Italiana svaporati nel nulla nel transito tra Pesaro e ma è colpa mia che parlo male degli eroi della Repubblica Sociale Italiana cavolo vi devo dire vabbè 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 in sintesi non un solo fascista sarà sul posto a difendere nonostante tutti i giuramenti fatti in tal senso la città e la provincia contro i partigiani e le truppe anglo-americane prima che mi stracciate le gonadi con la faccenda della storia scritta dai vincitori ok va ricordato che come dire va aspettate va ricordato che come dire questo documento questo documento è stato diciamo fatto con i verbali reperiti al comando di campo di Bozzolo a Mantua dove i fascisti pesaresi avevano trovato rifugio cioè da Pesaro a Mantua ne hanno persi 284 su 500 però come si suol dire quando io dico che i reparti della Repubblica Sociale italiana avevano questi tassi di diserzioni spaventosi vengo accusato di essere zecca comunista antifascista a prescindere eccetera 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 ma questi sono i documenti della Repubblica Sociale italiana cioè Gianfranco Bertolo quando ha elaborato queste righe quando ha scritto il suo libro Pesaro contro il fascismo ha fatto riferimento ai documenti della Repubblica Sociale italiana ai rapporti del colonnello della Guardia Nazionale Repubblicana Marino Fattori ma anche questa è storia scritta dei vincitori persino il fregio dell'arma delle trasmissioni che fa bella mostra sul mio basco di quando ero militare ma ragazzino 19 anni vabbè bei tempi andati esprime perplessità e quantomeno disapprovazione cioè insomma signori qua non si tratta di storia scritta dei vincitori qui sono gli stessi sconfitti che hanno esposto la loro catastrofe detta com'è ho parlato più volte in altri video di quello che accadeva in Toscana della putrefazione delle forze armate fasciste in Toscana ho parlato in un altro video della fuga vergognosa dei fascisti da Ancona ho parlato più volte del comportamento siamo sinceri vile dei reparti repubblichini di fronte al nemico mi stanno a dire ah ma perché il Nembo ad Anzio perché l'operazione Winter Gewitter perché la Garfagnana perché l'eroica resistenza di fronte a Forlì cioè ma si tratta di reparti che hanno combattuto in prima linea per se no un mese e ci sono i rapporti ripeto qui è colpa mia io ho un archivio digitale che contiene circa 4 terabyte e mezzo di materiale musica film video filmati documenti fotografie eccetera 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 mi era stato passato il pdf di un rapporto originale della traduzione di un rapporto tedesco sui militi delle SS italiane presenti ad Anzio i tedeschi in pratica dicevano levateci di torno questi ruffoni incapaci e stessa cosa quando si parlava dei reparti della Nembo stessa cosa quando si parlava dei reparti in genere dell'esercito nazionale repubblicano che vi posso dire la storia della come dire vergognosa e precipitosa fuga da Pesaro dei fascisti riportata da Gianfranco Bertolo è qualche cosa di allucinante noi giuriamo di difendere il sacro suolo pesarese dall'avanzata dei nemici dei brutali cattivissimi cattiverrimi stranieri che vogliono invadere giuriamo di difendere Pesaro il 28 agosto quando come dire gli alleati arrivarono a Pesaro non c'era un solo fascista in città non ce n'era rimasto uno i pochi franchi tiratori i pochi nidi di resistenza erano tutti tedeschi non c'era un singolo milite o soldato della Repubblica Sociale Italiana a Pesaro a difendere la città dagli alleati chiaro e ripeto non si tratta di un'invenzione di Gianfranco Bertolo l'autore di queste righe ma si tratta di un rapporto ufficiale della Repubblica Sociale Italiana del colonnello Fattori che si trovò costretto a gestire lo sbandamento la fuga lo squagliamento la putrefazione la decomposizione dei reparti della Repubblica Sociale Italiana a Pesaro o disertavano durante il tragitto verso Mantua o se la filavano oppure come detto dei poliziotti ausiliari della Questura prendevano il camion e se ne andavano verso Fonte Corniale a raggiungere i ragazzi della Bruno Lugli cioè signori poco da dire e poco da fare non credo ci sia altro da aggiungere un altro dei tanti delle tante prove che dimostrano come in realtà le forze armate della Repubblica Sociale Italiana fossero assolutamente inadatte al combattimento di linea i tedeschi li disprezzavano apertamente e li destinarono alla lotta antipartigiana alla guerra civile i tedeschi diedero alla Repubblica Sociale Italiana il compito di fare la guerra sporca contro i propri connazionali perché non erano in grado di combattere seriamente e non valevano niente e si vede la fuga dei fascisti da Pesaro ne è un esempio il tragitto da Pesaro verso Forlì e Mantova 500 militi della Repubblica Sociale Italiana ne arrivano 216 do stanchi altre 284 do ingiti do sen caceti do imbocheti se saranno ingoiati il foglia se saranno persi tra Carpegna e se saranno persi tra Carpegna e e e Maiolo saranno spariti dalle parde penabilli saranno affoghetti del Ponderimini se saranno fermati a Piel Sol tra Spiazza de Cattolica scusatemi il dialetto insomma signori come diceva mio nonno covo da di cotò da di cotò niente da fare io parlo male dei reparti della Repubblica Sociale Italiana ma direi che i documenti della stessa Repubblica Sociale Italiana parlano molto chiaramente e sono molto più caustici e desolanti di quanto io possa essere ma ripeto sono il comunista che parla male della RSI come se la RSI non si parlasse insomma non parlasse male di se stessa i fatti signori i fatti i documenti stessi della Repubblica Sociale Italiana parlano chiaro al momento del bisogno scappavano nonostante tutti i giuramenti nonostante tutti i proclami nonostante tutti i ferrei le ferre espressioni di volontà fuggivano fuggivano mesi prima dell'arrivo degli alleati che vi posso dire signori tutto qua insomma adesso cari signori tocca a voi qua sotto commentate 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 date del meglio del vostro peggio e del peggio del vostro meglio insomma dateci dentro con i commenti fatemi sapere che cosa ne pensate esprimete liberamente il vostro perere soprattutto se non siete già iscritti iscrivetevi e cliccate sulla campanellina come sempre arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao ciao